Comincia questa sera la rassegna del Teatro Sotto le Stelle. Ragazzi, in questo momento voi state lavorando, infatti dal vostro entusiasmo vediamo proprio emerge tutto l'impegno che viene profuso anche attraverso il montaggio ad esempio delle scenografie. Tu ci vedi così, ci vedi smontati perché abbiamo finito di montare, però stasera poi recupereriamo le forze, non ci vogliamo appesantire con le stanchezze per dare il massimo questa sera. Ora passo la parola a Emanuele perché mi sono stancato. Emanuele, tu mi sembri il più vispo della situazione. Certo, ma sono troppo vispo. E che dire, stasera siamo qui, stasera alle 21.30 iniziamo questa avventura. L'estate qui al Cineteatro Antidoto, 5 euro a coppia, la legge c'è a Fice, ormai, non ce l'hanno fatta. Comunque siamo qui perché la gente ci vuole e noi vogliamo la gente. Perciò stasera si inizia con Attente Acque 2, con Guglielmo Greco, Emanuele Giammusso e la Lore Artore. Il teatro però vi ricaricherà stasera e come per magia accadrà quello che accade poi tutte le volte che salite sul palcoscenico, cioè la magia di regalare un sorriso che fa bene alla salute, lo diciamo sempre. Guai se non fosse così. E noi ce la mettiamo tutta, sinceramente, io con tutti i ragazzi. Questa sera, ci vediamo questa sera. Così vi facciamo vedere le nostre energie, che tiriamo fuori tutte le nostre energie per passare una bella serata, sicuramente. Attenti Acque 2, come diceva Emanuele, è una commedia ricca di sorprese, sorprese per noi. Prima perché ci permette di improvvisare parecchio un testo scritto apposta per questo e una sorpresa anche per il pubblico perché possono nascere situazioni comiche in qualsiasi momento coinvolgendo alcune volte anche il pubblico. Dipende come ci viene in mente a noi, perché alla fine dipende sempre tutto da noi. Ricordiamo allora il primo appuntamento, a che ora i cittadini potranno essere già qui pronti ad inaugurare questa nuova stagione estiva 2016. Alle ore 21 e 30 inizio, cioè significa che i cittadini gelesi possono già venire dalle 8 e mezza in poi e prendere posto. 5 euro a coppia, come diceva Emanuele. Coppie single, coppie scoppiate, qualsiasi tipo di coppie. Anche Cocana potete venire, sono una vita coppia. Ricordiamo pure l'appuntamento del 30 luglio, questo è importante, con Giobbe Covat. La biglietteria è già aperta anche per Giobbe e la biglietteria è sempre aperta per noi. Tante belle cose, ci vediamo stasera. In bocca al lupo ragazzi. Credo.